132 milioni di euro per l'edilizia scolastica, 123 per la viabilità, 26 per l'ambiente ed 8 per il patrimonio, per un totale di 290 milioni distribuiti in 178 interventi. Sono queste le cifre del piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 approvato dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris e presentato questa mattina nella sala Cirillo di Piazza Matteotti. Cifre che possono migliorare la qualità della vita del territorio in termini di servizi erogati ma anche di rilancio dell'economia. Per le scuole spazio agli istituti che ricadono nel comune di Napoli senza dimenticare tuttavia l'area metropolitana, basti pensare ai 22 milioni stanziati per la nuova cittadella scolastica di Pomigliano d'Arco, ai 10 milioni per un edificio a Marano e ai 9 per la Cerra. Previsti interventi altresì per le strade provinciali di tutto il territorio, comprese le isole, mentre principalmente destinati alle zone costiere, costone e spiagge e ai laghi fondi per l'ambiente. Come città metropolitana stiamo facendo un lavoro imponente, nonostante i vincoli di finanza pubblica nazionale, abbiamo liberato molte risorse anche per realizzazione di nuove scuole e per la sistemazione di assi viari fondamentali. In tutti i comuni della città metropolitana un piano imponente, 300 milioni di euro, un investimento senza precedenti. È un lavoro molto importante anche con un'interpretazione del patto di stabilità che va nella direzione di non comprimere i diritti dei cittadini. Altri 500 milioni potranno essere disponibili se il Parlamento approverà la modifica che prevede il passaggio dal criterio del patto di stabilità per gli enti locali a quello del pareggio di bilancio. Grazie al risanamento dei conti e a una gestione oculata della finanza noi abbiamo quasi 500 milioni di euro in cassa che non si possono utilizzare perché il governo ce lo impedisce con il patto di stabilità. Come Anci e come Sindaco abbiamo chiesto un allentamento del patto, se questo avverrà con l'approvazione della legge di stabilità noi avremo ulteriori risorse che andranno per i comuni e per i cittadini.